uan ma che culo brutto che ci avete quando vi vedo un po stanchi arriva l'autogol di falcone che ve lo siete accattati detto questo raga nel calcio come si dice sempre ci vuole bravura coraggio e bus del culo perché senza il bucio di culo non vai avanti vedi oggi i miei cugini hanno sbagliato l'incredibile continua anzi riparte dopo i quattro babà la cavalcata o napol verso il campionato verso la vittoria del campionato come sempre sostenuto una vittoria del campionato meritata perché loro rispetto a noi hanno avuto una grande continuità ma soprattutto raga perché loro in qualsiasi maniera contro le piccole portano sempre a casa il risultato i campionati si vincono con le piccole squadre non lasciando dietro punti lì e tanti non lo vogliono capire se saltano per la partita singola con le piccole squadre si vincono i campionati e noi abbiamo perso un botto di punti con le piccole squadre cosa che non dobbiamo assolutamente fare stasera quindi a tutti quelli che entrano in campo i panchinari quei cinque che trovano sempre meno spazio voi dovete brucare il campo stasera lo dovete mangiare il campo a dimostrazione e a dare di mostri a dimostrare all'allenatore che meritate più spazio e che l'allenatore può stare tranquillo ad inserirvi in campo raga complimenti al napoli che anche stasera vinci sempre forza mira iscrivetevi al canale pollice in su a benzinero